Ci vuole tanto per guadagnare con delle strategie di investimento? Ciao, sono Marco Ortelli di Investment Academy. Sfattiamo un mito. Tutti quando parli di strategie di investimento pensano a un arco temporale molto nuovo, 5, 10, 15, 20 anni. Questa più o meno nella testa delle persone è la tempistica per le strategie di investimento. Sfattiamo questo mito. E se io ti dicessi che con la giusta strategia potresti ottenere dei risultati in un lasso di tempo molto più breve, sarei pensato, non è possibile. Tutti parlano 5, 10, 15 anni e tu parli di meno. Ho degli esempi di quello che ti sto dicendo. È possibile guadagnare anche nel giro di qualche mese. Non parlo solo di noi della scuola, ma sto parlando anche dei nostri studenti. Ho tantissimi esempi di operazioni fatte dai nostri studenti, chiuse in due mesi, tre mesi, qualcuno anche chiuso in un anno, un anno e mezzo. Ma è bello vederle bilanciato su varie tempistiche. Quindi sto già sfattando uno dei miti tradizionali del mercato di investimenti. Cosa fa la differenza? La strategia. Come approccia il mercato? Il processo della strategia, il conoscere le regole e seguire le regole. Questa è la differenza fra essere un investitore profittevole e meno, partendo sempre dalla regola di base. Qual è la regola di base? Compro basso e vento il più alto possibile. Questa è la base di tutte le strategie di investimento. Ecco perché ti dico che se tu scegli il momento giusto e l'azione giusta per entrare, vedrai che i tempi si abbattono pesantemente. Allora a quel punto tu nell'arco di qualche mese potresti già vedere dei grandissimi risultati. È ovvio che i tuoi obiettivi a livello temporale saranno molto più lunghi. Quindi non sto parlando soltanto, ok, faccio la mia bella strategia, apro, oggi fido fra un mese e tutto finito, ok? No, assolutamente no. Quindi macro obiettivo lungo termine. Primi risultati per costruire il tuo portafoglio ed ottenere quel macro obiettivo invece li vedrai in maniera molto più rapida. Con questo cosa vuol dire che ti fermerai? No, sarà un continuo, sarà un processo di crescita. Sarà un processo di crescita tua a livello di formazione e mentale, ma sarà un processo di crescita anche del tuo conto. Tutto è costruito su di te. Non c'è una chiave. Ognuno ha la sua e in base a quello che tu vorrà tenere con le tempistiche e i risultati che ti sei dato, allora a quel punto andremo a costruire una strategia giorno dopo giorno per ottenere quei risultati e soprattutto ti accorgerai che i primi risultati non li vedrai fra cinque anni, ma li inizierai già a vedere in un lasso di tempo molto più breve, quindi sto parlando già di 1-2 mesi. E' questo che fa la grande differenza se puoi essere costanti e ottenere risultati o meno.